Dottore Giordano, la notizia tanto attesa, fino agli giorni precedenti si temeva il peggio, invece questo riconoscimento è arrivato, cosa significa per il Comitato? Il Comitato significa il perseguimento di un risultato che abbiamo creato, che abbiamo cercato con tutte le nostre forze, assieme a tutti gli interlocutori che hanno accettato di compiere questo percorso assieme a noi. Non dimentichiamo che tutta questa operazione noi l'abbiamo concordata, realizzata, voi ne avete seguito i momenti pubblici assieme ai sindaci del territorio, perché la proposta finale che noi abbiamo preparata è stata condivisa, è stata firmata pubblicamente nel corso di un incontro che ricorderete noi abbiamo organizzato nella Chiesa di Santa Margherita. Dobbiamo immaginare che possono esserci ancora interventi su questa rete ospedaliera o possiamo stare tranquilli? Guardi, la trafila è quella prevista dalle leggi, tutto può accadere e dobbiamo vedere anche il Governo nazionale come accoglierà questa nuova edizione del piano della rete ospedaliera, però è un risultato che fino a ieri mattino non avremmo immaginato, anzi addirittura c'erano già i soliti profeti di sventure, quelli che sanno tutto, quelli che prevedono tutto, quelli che conoscono tutta la politica, i politologi, tutti gli scienziati del settore che quasi quasi avrebbero auspicato un risultato peggiore. Lei che è stato medico ospedaliero ci spiega un po' nel dettaglio il significato del riconoscimento di ospedale SPOC. Noi abbiamo oggi come Dipartimento di Emergenza, cioè Pronto Soccorso e DEA, Dipartimento di Emergenza e Accettazione di primo livello, il riconoscimento che i servizi che abbiamo fanno parte di un livello superiore di assistenza. Quindi noi siamo una struttura di pronto soccorso e per l'emergenza che deve essere attrezzato obbligatoriamente dei presidi che in parte già abbiamo, ma deve avere il personale corrispondente per poter funzionare al meglio. Da questo punto di vista, considerando che l'ospedale di Castelvetrano non ha avuto questa classificazione, si potrebbero immaginare delle sinergie importanti che noi per la verità avevamo ipotizzato già nel passato per ufficializzare anche questo tipo di collaborazione al di là del fatto che noi apparteniamo alla provincia, l'agrigento oppure no. Secondo noi, incassato questo risultato di carattere politico e organizzativo, noi dobbiamo ritornare a interessarci delle cose che sono alla base della nascita del Comitato. A noi interessa la qualità dell'assistenza, a noi interessano le condizioni reali in cui si svolge l'assistenza alle persone, in cui gli operatori, medici, infermieri, ausiliari, tutti, anche amministrativi, sono messi nelle condizioni di rispondere ai bisogni delle persone. La battaglia dunque non è finita. Non è per niente finita, è solo all'inizio. La battaglia dunque non è finita.